vogliamo fraschium 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 dai vogliamo sto maledetto fraschium basta un fraschium il fraschium il fraschium nazionale va bene senza indugio fraschium e uno poi basta non si pulla più qui fermi così meno male non c'è il 5 stelle grazie al cielo non lo volevo non la volevo magari in un futuro lei mi piace tantissimo estetivamente ma non possiamo rischiare dopo arriva la dea quindi non si può fare però un altro fraschium vabbè me l'aspettavo vabbè pull ragazzi vabbè vabbè fraschium va bene fraschium va bene va bene dai fraschium due fusciane due fusciane in una multi percepiamole due fusciane in una multi allora se è nella prima singola ha vinto il sì teoricamente se no siamo over ed ha vinto il no vediamo se nella prima singola vediamo ok potete rendere per il no vediamo quando è ok 76 77 basta pela basta basta e 6 quindi e 6 esattamente te ne ha dato i 20 89 80 eccolo bellissima questa splash art è bellissima ragazzi è proprio bellissima eccolo anche lei mi sa tantissimo gli enchantix lo devo lo devo spammare anche lei tantissimo proprio siamo appena 74 molti del 5 stelle ci siamo il 5 stelle c'è incrociamo le dita ok ok 75 76 77 lo shield sbagliato nooo lo shield io avevo pensato ce ne so fare 78 ci siamo eccola 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 78 guardatela e mandatela e mandatela tutti a cagare ragazzi mandatecela forza mandatecela 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 oh ce l'abbiamo fatta fu shuan come on yes si va si va ha detto via si parte molti del 5 stelle ci siamo è lei è lei è lei è lei una granza tutte le volte 75 75 76 75 76 coatticus 2 andiamo 5 star 5 star guardate la lucina guardate la lucina vedete dorato vuol dire che c'è 5 stelle perché prima mi chiedeva come si capisce 5 star ok 75 76 77 si 30 dai early pity eccolo eccolo early pity eccolo alice maledetta infame early pity siamo a pity 21 adesso eccoci qua vediamo vediamo 21 22 23 no un figlio è uscito un figlio però me ne abbiamo garantito è uscito un figlio a pity 22 però da pity 22 e non è male 70 ce l'abbiamo fatta ragazzi ce l'abbiamo fatta ce l'abbiamo fatta ce l'abbiamo fatta prima dell'ottantesima comunque perché è comunque sì perché andavamo a 70 andavamo a 70 e invece oh fraschium di nuovo eh fraschium di nuovo questo è 61 62 63 64 65 66 67 68 69 69 fu shuan la rosina ero 10 5 stelle 5 stelle vediamo 1 2 3 perfect timing che mancava 4 5 6 69 va bene 79 si va ragazzi si va si va a letto no no 5 stelle no stavi dicendo eh no per nulla no andiamo vediamo a 75 smettila povero pompon 76 staccano le orecchie per la ci pensano le melusine che smembrano gli arti della gente fraschium fraschium è 1 77 fraschium è 2 78 79 ecco no 79 79 era solo il sipario per esatto Velt il preferito di Riccardo Velt vediamo trovai tanti fraschium o esce subito eccola 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 ma Riccardo io ti giuro Riccardo è doppia ma se hai inizio molti è doppia inizio moltissimo a considerare doppia ma state trollando o è uscita no c'è davvero ok è uscita è uscita c'è c'è a PD7 perché io non riesco no a PD6 è doppia Rizlong grazie per il fallo ecco eccolo ragazzi tiktok se volete venire su twitch vi aspettiamo che si vede meglio la live oh che magia che magia oh magia magia quando se la senti vai e schiacciamo 5 stelle ce l'abbiamo ok il calcolo pazzoide potrebbe essere già la prima perché lui è partito da 75 quindi vese la 76 ragazzi la prima quindi potrebbe essere già questa subito no 77 77 77 eccola eccola la bambina rosa dai e Fabio esce il doppio buono 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 esce il doppio vediamoci che devo unire la signale uno oh oh mio Dio sì sì basta chiamarlo un po' di tenitudine signori vediamo vediamo qualcosa c'è il circo rara il circo grazie per il follow welcome ecco Albi ha donato la sub per la novantesima se pedi 50 e 50 è colpa di Albi e allora mi chiede grazie Albi ha portato scarto di sicuro così a priori vediamo vediamo se Albi ti fa perdere veramente grazie 67 è andata bene è andata bene pt 68 arma presa 1 ciao beni non ti preoccupare pt 1 2 per miseria spaventata abbiamo scherzato malissimo 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 3 ecco io e Leliana sempre più bianchi capelli 4 5 e Leliana ma lì eccolo 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 allora hai fatto bene a non fare la multi ha proprio risparmiato una singola ha risparmiato una singola vediamo quanto ci mette no niente 5 5 stelle confermato bravi non ho neanche detto chi voglio c'è chi vorrei se perché esce lei esce lei no esce lei no 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 deve uscire lei 76 si 76 75 78 porca miseria 76 77 78 porca miseria 79 eccola sii sii la capella sii 5 stelle meno male vorrei anche vedere 75 76 liscia 67 è lei è lei 67 ci siamo sì sì Aaaaaaah!